ciao a tutti bentornati sul mio canale mercoledì 4 dicembre è venuto il momento di aprire la scatolina numero 4 ovvero questa vediamo che cosa c'è all'interno scatolina sempre con disegni in oro e all'interno troviamo questi che se non sbaglio dovrebbero essere dei etichette forse sono etichette per chiudere dei pacchetti sembrano poi cercherò di capire e per oggi è tutto e ci vediamo domani con nella scatolina numero 5